Leonardo Silva Reviso 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 Re ricordare meglio quella giornata. Cosa stavate facendo il 23 di maggio del 2023 alle 4.04, ovvero quando c'è stato l'attentato al Pentagono? Non ve lo ricordate, vero? Forse perché l'attentato al Pentagono non c'è stato. Eppure dell'evento esiste un'immagine che ne ritrae una testimonianza, un'esperienza fotografica. L'immagine, nonostante rappresentasse un evento che non è successo, ha fatto cose. Anzitutto è stata condivisa da moltissimi account su Twitter, anzitutto la testata Bloomberg Feed, che è stata confusa da molti come un'affiliata della testata Bloomberg, una testata molto attiva nell'universo mediale e che è dotata, come vedrete, della spunta blu, ovvero del certificato di veredizione del profilo. E immediatamente questa immagine è stata rituitata da migliaia di follower, tra quali per esempio l'organo di stampa russo Russia Today o la rete televisiva indiana Republic. E in aggiunta questa immagine ha fatto cose, per citare uno dei motti della pragmatica, che non erano mai state registrate fino ad oggi, ovvero nel giro di soli quattro minuti ha fatto scendere l'indice Dow Jones Industrial di 85 punti. Cioè l'immagine che vediamo, quindi vera, che è esistita, che ritrae un evento che non è successo, ha avuto delle conseguenze tangibili sul mondo reale. L'attentato era un fake, ma l'immagine è vera. L'immagine, molto probabilmente ve lo ricordirete, è stata generata da un sistema di intelligenza artificiale. E tuttavia ha fatto cose. Di immagini di questo tipo siamo sempre più circondate. Ricorderete forse le immagini sempre generate da intelligenze artificiali che hanno ritratto i funerali di Berlusconi prima che effettivamente morisse, in una Milano avvolta nel grigiore e nel tricolore, con tanto di popolo rosso-nero e di famigerati black bloc, ma forse ricorderete anche le immagini sempre generate da un'intelligenza artificiale che ritraggono l'arresto di Trump prima che effettivamente fosse incluso emanato il mandato di cattura. Osservare questo tipo di immagini ci fa riflettere sui nostri modi di approcciarci con quelle immagini che ritraggono una testimonianza e che ci fanno ricordare un'esperienza che è fotografica. Come esseri umani siamo portate a riconoscere nelle immagini che ritraggono un'esperienza fotografica un verosimile del reale, cioè un'icona di tutte quelle cose, di tutte quelle esperienze che conosciamo, che abbiamo fatto. Ma questo ha delle conseguenze, a volte anche un po' pericolose. Ovviamente ha delle conseguenze quando abbagliate da questa forza iconica, da questo tentativo di riconoscere nell'immagine che ci riproduce un'esperienza fotografica qualcosa che conosciamo e allora ci dimentichiamo che alla produzione di senso di queste immagini partecipano anche agenti non umani, agenti macchinici, intelligenze artificiali per esempio. E quando ce ne dimentichiamo, quando quindi siamo accolte da questo bagliore, da questo abbaglio iconico, saltiamo, ci facciamo prendere dall'ansia, esattamente come i broker a Wall Street il 23 di maggio del 2023. Ma di storie, di salti, di movimenti e di sommovimenti ansiogeni di fronte alle immagini è piena la nostra cultura. Uno su tutti, e forse il più conosciuto, è quello che ha messo in relazione gli esseri umani con un agente macchinico nuovo e che hanno saltato, sono stati in grado proprio di saltare di fronte a un'esperienza che era assolutamente innovativa, ovvero tutte quelle persone che il 28 di dicembre del 1895 hanno assistito per la prima volta a una proiezione del cinematografo dei fratelli Lumière, sono saltate dinnanzi a questo film, l'arrivo del treno alla Siotat. Ma voi direte, non vale, questa è un'immagine in movimento e ben sappiamo che il movimento spesso è reazione di fronte al movimento. Ok, e allora andiamo ad osservare un'altra immagine, fissa, che è stata prodotta da un agente non umano antelitteram. Siamo sempre a Parigi, 1857, e il fotografo francese Gustave Le Gray espone per la prima volta questa fotografia, la Gran Vogue. E le cronache dell'epoca, soprattutto sotto la penna di Henri de Diger, nella Patrie, un giornale francese per l'appunto, riportano che per poter contemplare l'immagine era necessario fare un balzo indietro affinché non si fosse travolte dall'impeto furioso dell'onda. Questa fotografia, la Gran Vogue, si può iscrivere dentro un genere visivo molto comune all'epoca, anche in campo pittorico, quello delle vedute, che rispecchiava poi anche un classico gusto borghese dell'epoca. Ma rispetto alle vedute borghesi dell'epoca, la Gran Vogue ci confronta con un'assoluta novità. Cioè Le Gray, per poter restituire quel movimento furioso e impetuoso, così come l'ha scritto Daudet de Diger, decide di allearsi con la recentemente apparsa fotografia. Perché per una macchina fotografica dell'epoca, per un dispositivo fotografico dell'epoca, poter ritrarre fedelmente il cielo, le nuvole, avrebbe richiesto un tempo di esposizione tale per cui il mare, il movimento delle onde, sarebbe rimasto assolutamente sfocato. E alla stessa maniera, poter ritrarre l'impeto furioso delle onde che si scagliano sulle rocce, il vento, avrebbe invece lasciato il cielo bianco. E allora Le Gray decide di allearsi con il dispositivo fotografico e montare i negativi di due fotografie, una che ritraggono il cielo e l'altra che ritrae il mare, su un'unica lastra. Decide cioè di scomporre per poi riassemblare il reale che conosce attraverso la cooperazione con l'agire fotografico. Riflettere su questo tipo di immagini, così come sulle immagini che vi ho mostrato all'inizio, ci fa rendere conto che spesso le testimonianze, soprattutto quando simulano un'esperienza fotografica, sono fragili. E spesso e volentieri sono anche il risultato di una fragilità che è artificiale. E questa fragilità è quello che ci deve portare a pensare che forse abbiamo ancora una possibilità di azione. E questa possibilità di azione è quella che prevede il coraggio, forse anche potremmo dire, di sprogrammare la forza iconica delle immagini. Cioè tutte quelle volte che di fronte a un'immagine che simula un'esperienza fotografica cerchiamo quelle tracce di reale che conosciamo, ecco che l'abbaglio ci coglie, ecco che l'ansia ci coglie, ecco che allora saltiamo, scappiamo, scappiamo dinnanzi al treno, scappiamo dinnanzi all'onda e scappiamo anche dinnanzi al possibile attentato. E invece lasciare spazio e azione all'agire meccanico ci porterebbe a riflettere sullo statuto veridico delle immagini. Esistono immagini che simulano un'esperienza fotografica vera? Come sono state prodotte queste immagini? Quali agenti umani e macchinici sono coinvolti? E soprattutto che tipo di relazione esiste tra questi agenti umani e macchinici? Potrete anche pensare che l'esempio di Le Gray del 1857 è molto lontano rispetto per esempio alle immagini che abbiamo visto dell'attentato al Pentagono, ma in realtà da un punto di vista proprio progettuale non c'è così tanta distanza, non c'è così tanto scarto, perché in entrambi i casi si tratta di un'operazione di rilevamento di dati, quindi di collezione di input, perché poi vengano immessi dentro una scatola nera, dentro uno spazio di azione, uno spazio al quale noi come esseri umani non siamo stati inventati e sul quale evidentemente non abbiamo il pieno controllo. E quindi riflettere su questi spazi di cooperazione tra agire meccanico e agire umano ci fa anche riflettere su come questo tipo di immagini possono avere un impatto anche cognitivo sulla nostra società e ovviamente sulle nostre menti. E allora l'invito è forse quello di provare a sprogrammarle, mandare in blackout questa relazione verosimile nei confronti delle immagini. E mandarle in blackout significa acuire altri sensi, ascoltare le immagini, ascoltare le immagini e gli artefatti che le abitano. Sprechiamo così tanto tempo e risorse cognitive nel chiederci come poter insegnare per esempio le nuove generazioni a poter riconoscere il vero dal falso nelle immagini. Ma forse sarebbe più efficiente insegnare alle nuove generazioni che il collegamento tra il vero e il falso in un'immagine andrebbe sprogrammato, andrebbe mandato in blackout. Perché quello che forse sarebbe meglio fare di fronte alle immagini che ritraggono un'esperienza fotografica è ascoltarle e lasciare spazio all'agire da un meccanico. E allora forse grazie a questo ascolto saremmo capaci anche di costruire nuove alleanze con le tecnologie, alleanze sostenibili. Come? Alleandoci con loro. Grazie. Grazie.